Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema di liquore al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 10 giorni di riposo. Gli ingredienti che ci serviranno per la prima parte sono alcol per alimenti e pistacchi non salati e non tostati. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pistacchi e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Trasferiamo i pistacchi all'interno della boccia con l'alcol. Lasciamoli macerare in un luogo fresco e asciutto e al buio per almeno una settimana mescolando di tanto in tanto. Trascorso il tempo adesso ci servirà il latte, zucchero semolato e crema di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e la crema di pistacchi. Ed azioniamo il bimbi per 15 minuti 90 gradi velocità 4. Lasciamo raffreddare del tutto all'interno del boccale. Nel frattempo andremo a filtrare l'alcol. Una volta che si è raffreddato aggiungiamo l'alcol che è stato ben filtrato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Trasferiamolo in una bottiglia di vetro e lasciamo riposare in frigo per tre giorni prima di servire. Crema di liquore al pistacchio. Si conserva in frigo per due mesi, agitare prima dell'uso. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!